Ciao a tutti e a tutte, bentornati bentornati in un nuovo vlog. Ieri non ho registrato perché praticamente siamo andati al mare ed ero stanchissima, ero cotta proprio. Infatti scusate se mi grato ma perché mi sono bruciata. Sono nata per alcuni indizi. Stavo preparando da mangiare con mia nonna, stavo, stiamo aspettando mia madre per mangiare. Siamo andati a fare un giro, a fare commissioni e questo pomeriggio staremo a casa probabilmente. Infatti c'è anche un tempo schifoso fuori che sta quasi per piovere, meno male che ci siamo andati ieri. Ah però le foto posso mostrarvele, del fatto di ieri. Se volete vedere le foto andate su Instagram. Infatti oggi le pubblico perché ieri mi sono completamente dimenticata perché poi ero stanchissima, ero proprio cotta al 100%. Scusate mi tocco gli occhiali perché mi hanno fastidio. Infatti si nota anche le occhiaie perché non ho dormito. Per oggi è tutto, lasciate like, iscrivetevi al canale se volete vedere dei nuovi vlog, di qualsiasi cosa. Allora, vi saluto, ciao!